Buongiorno amici bentornati a minecraft 1.9 sono gino dp e guardate la c'è un enderman un enderman e abbiamo bisogno di cibo ragazzi quindi direi facciamo così io voglio una chest particolare ragazzi mettiamola qua in camera da letto che temporaneamente è fatta così nel quale metto tutte le cose che ho qua con me e invece andiamo a lottare contro quell'enderman e possibilmente prenderci del cibo da qualche parte so che non sarà facile perché ci sono anche altri mostri in giro però dobbiamo riuscirci ho parato l'enderman ragazzi ed è scappato perché è giorno quindi stiamo facendo giorno comunque ragazzi abbiamo un osso quindi possiamo approfittare pensavo fosse notte invece stiamo facendo giorno possiamo approfittare dell'osso per rifarci un po di cibo ai 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 ragazzi no questo era un colpo alla schiena ragazzi non è possibile era una coltellata nella schiena non mi sembra giusto assolutamente che un un enderman si comporti in questo modo quindi aspetti pure che adesso vengo la e le dico cosa ne penso di questa di questa cosa signora enderman ah per fortuna che è scappato fortuna per lei perché altrimenti qua avrebbe visto eccolo la eccolo la eccolo la eccolo la ehi ehi tu enderman vieni qua vieni qua vieni qua ragazzi il mio cancello funziona pure con l'enderman il mio che si chiama il mio fossato funziona anche con l'enderman guardate sto massacrando perfetto ragazzi allora vediamo se ci ha dato la io vender e morendo ragazzi eri avuto la mia barra dell'appetito piena quindi e apposto non abbiamo più problemi di cibo non ci ha dato la non ci ha dato la nostra ehm come si chiama il nostro aio vender il nostro enderpearl e va bene io ci darei anche questi ragni vediamo se ci danno della lana per continuare il nostro lavoro ma ci sta andando un po male con i ragni ecco qua un altro pezzo di lana va bene va bene ok 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 due pezzi di lana non ci facciamo molto e va bene e quindi riprendiamoci tutta la roba che avevamo e ok molto bene perfetto e ragazzi io a questo punto in questa puntata dobbiamo sistemare un pochino i problemi di cibo perché eh io penso che sarà questo lo lo scopo di questa puntata diciamo lo scopo intrinseco di questa puntata perché così non va bene così abbiamo poco cibo e non abbiamo cibo sufficiente per sfamarci dovremmo averne invece un bel po di scorta allora due sono le possibilità ragazzi o piantiamo una farm abbastanza grande oppure ci facciamo un viaggetto fino a cambiare biome e a trovare qualche animale da far fuori e avere in questo modo il nostro cibo io farei così ragazzi là vedete quell'acqua non so se fare là una grande farm e quindi prima cosa dobbiamo mettere a posto questo laghetto artificiale mettendo a posto la forma farlo abbastanza quadrato questo laghetto artificiale che stiamo facendo che è buono anche per pescare ragazzi è un'altra idea che potremmo utilizzare per non avere più problemi di cibo quindi ecco questa roba adesso non costruiremo più niente quindi possiamo usarla per tappare quei buchi e anche ragazzi perché abbiamo bisogno di terra quindi ecco allora tutti i semini che abbiamo di qua quindi ragazzi qua dall'alto riusciremo a vedere se il nostro raccolto è pronto come vedete da qua si vede se il nostro raccolto è pronto oppure no è un po' lontano però si vede vediamo se delle scale già fatte ragazzi perché vorrei anche mettere a posto le scale di qua io le farei di cobblestone ci invece c'è un bel po' di scale di cobblestone vediamo quante ne riescono 40 perfetto pure troppe e quindi fare una discesa ragazzi fino alla sotto sto facendo notte ok questo è il mio piano all'ora di lavoro solo che adesso ragazzi dobbiamo un attimino fermarci con questo lavoro e invece darcene a nanna prepararci per la lotta di stanotte avere la possibilità di dormire settare lo spawning point e magari saltare questi turni notturni che sono un po' noiosi a volte se non vogliamo lottare e dai allora facciamoci il giretto di qua vediamo cosa succede la mia farm è cresciuta molto ragazzi guardate quanti alberi lo spawning eccolo qua ragazzi guardate sento che questi alberi sono al sicuro non può arrivarci ok come non detto niente underpearl grazie stasera è abbastanza calmo ragazzi non vedo grande spawning di vabbè un po' di carne marcia ci fa piacere ragazzi mi arriva uno alle spalle guardiamoci sempre anche alle spalle ragazzi non fatevi mai sorprendere dai creeper guardate gli amici di questi zombie dovete avere un pochino di pazienza quando lottate con gli zombie altrimenti alla fine vi vi beccano questo perché uno spinge l'altro da dietro quindi se sono molto vicini dovete avere un attimino di calma nell'ucciderli eccolo qua un altro andiamo di far fuori questi ragni perché voglio farmi il mio letto non voglio più problemi e vorrei saltare qualche turno di notte perché veramente noioso niente male stiamo facendo anche giorno guardate che bella che bell'alba all'orizzonte facciamoci l'ultimo giro vediamo come è la situazione che salverò ciao ciao creeper conviene farli fuori ragazzi prima che dopo ve li ritrovate a prendervi alle spalle perché questi si muovono molto una volta spawnati non è che rimangono là si danno da fare a venirvi a cercare grazie a scheletro molto bene siamo quasi arrivati alla porta di casa vediamo se ci sono anche altri pericoli ancora no perfetto quindi possiamo continuare il nostro lavoro io prima di fare un bel po' di farming non so ragazzi se piantare alberelli anche di qua uno a ogni angolo della stanza della casa per abbellimento perché no ok devo fare una seconda chest con le cosine più preziose specie di cassaforte purtroppo ragazzi la vita in questo abbiome è più difficile perché se fosse un abbiome ricca di animali o anche ero stessa ricca di di erba avremmo potuto comunque evitare di fare tutto questo lavoro di farming va bene comunque ci stiamo ci stiamo divertendo questa è l'altezza della mia farm ok quindi facciamoci un attimino sta stradina come la dobbiamo fare molto bene e qua ragazzi dovremmo alzare un attimino il livello dell'acqua non so come se ci riusciremo proviamoci un attimo perfetto ragazzi quindi ce l'abbiamo fatta molto bene abbiamo rialzato il livello di questo laghetto e adesso quindi possiamo scavarci la strada fino a casa ok molto bene questo questo sprocchio arancione magari scusate la mia casa vuoto di memoria un attimo guarda il colore del pavimento è arancione perfetto allora facciamo così guardate facciamoci prima ti faccio a posto la camera da letto e dopo metteremo al posto il resto perfetto quindi così non abbiamo più problemi di spazio dopo magari sposteremo questo accesso vicino al letto stiamo pure sotto di qua mettiamo arancione questa parte di sotto rimarrà un segno di ardened clay non fa niente tanto qua sopra ci va la biblioteca stessa cosa di qua ragazzi perfetto ragazzi quindi abbiamo messo a posto almeno il pavimento di questa stanza e quindi orange ragazzi non ci serve più il bianco ne abbiamo 36 allora lasciamoli da parte non li usiamo perché ci rifaremo i muri mettiamolo qua tra i nostri blocchi quindi non lo useremo e ragazzi è di nuovo notte quindi dobbiamo ancora una volta ricominciare a lottare meglio farci il cappello essere protetti dobbiamo coordinarci con il mini zombie e con lo scheletro contemporaneamente per il tiro della freccia eccoli là i ragni vediamo se ce la facciamo perfetto ragazzi abbiamo più che sufficiente lana cioè strings che diventeranno lana entriamoci per il passaggio segreto ragazzi visto che ce l'abbiamo cittarei anche qualche torcia e quindi ragazzi la bellezza di una nuova un nuovo pezzo di wool che insieme agli altri due ci facciamo un bel letto eccolo qua e finalmente nella nostra nuova camera da letto mettiamo il letto qua magari lontano dalla vista delle finestre ci andiamo a dormire anche se è molto una notte molto inoltrata quasi alba e siamo a posto ragazzi il nostro spawning point è fissato molto bene molto bene molto bene riprendiamoci tutta questa robaccia e continuiamo il nostro lavoretto spero spero di avere abbastanza cobberson e vabbè qua siamo arrivati ragazzi c'è una stradina fino al bordo della ok quindi questa è la nostra stradina ragazzi si vede si vederà pure dall'alto e adesso invece dobbiamo fare metterci la terra quindi la cosa sarà più problematica questa stradina che avevo iniziato la cancelliamo comunque dovremo scavare di qua per avere terra sufficiente vediamo quanta terra ho soltanto 26 corsi di irt non penso che sia coltivabile quindi non è non molto molta terra mettiamoci pure un cobberson e va bene allora per adesso facciamo solo questi bordini perfetto ragazzi quindi con la terra che avevamo abbiamo circondato questa parte iniziamo già a coltivarla senza perdere tempo ok quindi mi serve dell'altra terra questo corsi di irt ok facciamo la prova ragazzi vediamo se funziona se la posso arare sembrerebbe di si ragazzi sembrerebbe che posso ararla facciamo un'altra prova devo solo premerci due volte se la differenza è con la terra normale a zappe ne possiamo farcene quante le vogliamo e allora piantiamo anche la seconda linea perfetto ragazzi adesso ci mettiamo la terra 24 pezzi di corsi di irt quindi non ci basta per fare un'altra linea il sole ragazzi come è messo sta tramontando quindi ci dobbiamo muovere prima che si faccia troppo tardi e infine ragazzi una rapida seminatura e abbiamo messo tutti i semini perfetto ora ce ne possiamo tornare nei nostri appartamenti dove provvederemo ragazzi a dormire finalmente è finita la vita comincia ad essere un po' più bella come in minecraft e dobbiamo aspettare un attimino allora io mi farei questo lavoretto ragazzi di mettermi a posto i blocchi ok domani poi vedremo vediamo se riusciamo a dormire ah guardate si vedono i piedi del pupazzo non ci avevo mai fatto caso quando dormite molto bene ok allora andiamo un attimino a vedere cosa riusciamo a fare in più con questa farm vediamo vediamo 25 una linea nuova 3 4 5 6 molto bene allora qua ragazzi vogliamo farci io penso una piccola capanna per gestire magari i materiali del farming e allora facciamoci questa capannina 3x3 niente di particolare dobbiamo fare di legno ragazzi anche se non è che abbiamo molto di legno e va bene va bene va bene quindi questa è la nostra casetta nel quale metteremo la grande quantità di materiali derivanti dal farming e cos'altro ragazzi abbiamo un nuovo semino di qua piantiamo facciamoci nella nostra nuova casetta ci facciamo una nuova zappa e guardate sta già crescendo stanno già crescendo le prime spighe di grano e un'altra cosina che dovremmo fare ragazzi sarà recintare tutto col cobblestone wall per limitare illuminare ragazzi per limitare i possibili danni che insorgessero dal dai creeper quindi dobbiamo prendere un attimo le distanze abbiamo bisogno di un bel po' di cobblestone wall non so se mi basterà dovremmo fare un'altra scorta di cobblestone ragazzi o avremmo potuto fare arrivare a strada va bene non fa niente allora facciamoci una fence gate due fence gate era così sì sì perfetto e adesso illuminiamo qua ragazzi riempiamo con il clay tutto bene e adesso ragazzi dobbiamo mettere delle altre dolci per essere mettere più o meno alla metà più o meno al centro molto bene abbiamo altri due semini qua da piantare perfetto penso che non l'abbiamo mai zappata vabbè che strada del clay non ce lo rimettiamo perché dopo dobbiamo toglierlo non ha senso guardate la prima spiga di grano è cresciuta va bene dopo torneremo a fare un po' di farming di qua quindi l'ultima cosina ragazzi che strada del clay mettiamolo di qua ragazzi e l'ultima cosina che volevo fare era fare una stradina fino a qua da qua fino a là e andiamo a vedere un attimino se abbiamo altro materiale molto bene possiamo usare queste scalette ragazzi nessuno se ne accorgerà perfetto ok quindi questa è la nostra area di farming ragazzi dopo magari spenderemo un pochino più di tempo per potrei mangiare metterlo a posto questo questo diventa pane quindi dopo spenderemo un pochino più di tempo per riempire di terra quello che manca di qua e magari prendere dei semini dal risultato di questo farming adesso voglio fare l'ultimo task ragazzi di oggi che guardate quanta terra avevamo qua potremmo usarla per sistemare di là va bene possiamo pensarci però oggi adesso voglio sistemare come ultimo task di questa puntata questo quadrato quindi che dobbiamo appiattire e ripetere dall'altra parte in maniera che non ci sia questa cosa brutta a vedersi allora mettiamoci subito all'opera ok ragazzi quindi risultato fatto ce l'abbiamo fatta abbiamo rifatto questo quadrato quindi la nostra sezione è rialzata di qua rispetto a quest'altro livello e quindi ragazzi io per adesso ci salutiamo qua nella prossima puntata magari vedremo di fare qualche altro lavoretto di qua ma soprattutto di andare avanti con gli obiettivi di minecraft e soprattutto ragazzi una cosa che vorrei fare è mettermi via questo piccolo diamante che si sta consumando perché vogliamo prenderci dell'altro obsidian anzi mettiamocelo via questo obsidian perché ci dobbiamo fare una ender chest quindi un un altro lavoretto che ci dobbiamo fare ci faremo qua una ender chest da sostituire a questa chest e dopo sposteremo le chest di qua che è meglio è più bello e ci mettiamo qua un pochino le cose un pochino più preziose specialmente questo blocco d'oro e ok quindi il piccolo diamante resterà qua per fare spazio dopo al mining dell'ender chest dovremmo anche creare l'enchanter se l'ultimo cob questo che mi resta ragazzi questo lo mettiamo di qua comunque adesso come vedete non abbiamo più problemi di cibo quando non avremo di che sfamarci qua sopra scenderemo qua sotto e potremo tranquillamente avere tutto il grano che ci serve per fare il pane finché non faremo il primo viaggio e troveremo un pochino di carne giusto per variare la dieta comunque ragazzi per adesso è tutto grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima puntata di 1.9 arrivederci